Debra Saracchiani, ex Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ex Aerodeputato, oggi deputato alla Camera. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Allora comincio con l'attualità. In Inghilterra sulla Brexit si dice ci sono quelli che remain, vogliono restare, e quelli che vogliono leave, uscire. Nella scissione Renziano di questi giorni, lei è un remainer o un leaveer? Lei resta o meno? No, io resto, sono un remainer. Resto, resto convintamente anche perché trovo che il Partito Democratico sia il posto giusto dove stare. Proprio adesso, adesso che abbiamo fatto questa scelta, direi anche incredibile, di un accordo politico con il Movimento 5 Stelle, abbiamo bisogno davvero di lavorare e abbiamo bisogno di un Partito Democratico forte, per cui penso e credo che dobbiamo star dentro. Secondo lei, l'effetto del nuovo partito che Renzi vorrebbe lanciare sarà negativo, positivo o neutro per questo governo giallorosso? Oggi mi pare di aver capito, insomma, ascoltando un po' le interviste varie e anche leggendo l'intervista di Matteo Renzi, che voglia supportare questo governo nonostante la scelta di uscire dal Partito Democratico. Quindi direi che dovrebbe essere, spero, un appoggio convinto, visto anche che ne fa parte attivamente con alcuni membri. Ma con questa mossa Renzi diventa il quinto partito della coalizione, perché c'è PD, Movimento 5 Stelle, Leo, un sottosegretario è dalle italiane all'estero, M-A-I-E, la formazione, non so come. E poi il quinto partito, quello di Renzi. Quindi è un pentapartito come negli anni 80 e Renzi vuole imitare Bettino Craxi a diventare il lago del bilancio con 8% del voto? Spero di no, perché non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno invece di un'unità vera. E adesso, al di là di tutto, credo che anche oggi, soprattutto oggi, la storia non si possa ripetere. Quindi mi auguro, in realtà, in questo conteggio che abbiamo fatto dei partiti, che il Partito Democratico sia il più forte e anche il più largo. Ma con il pentapartito e poi aggiungiamo la proporzionale e siamo di nuovo nel ritorno al futuro. Beh, allora, io preferirei un Partito Democratico maggioritario, un Partito Democratico così come è nato. Mi rendo conto però che siamo in un contesto storico impazzito e mi rendo conto che abbiamo bisogno di fare un campo largo del centro-sinistra rispetto alla destra che abbiamo di fronte, che non è soltanto quella di Salvini, ma è soprattutto quella di Salvini e della Meloni. Detto questo, io credo che il proporzionale determinerà quella frammentazione sarà inevitabile. Spero però che non ci troveremo in quelle coalizioni dove oggettivamente la coalizione serviva per la campagna elettorale e finiva il giorno dopo le elezioni. Ecco, questo non sarebbe accettabile. Lei ha capito perché Renzi ha deciso di uscire in questo momento? Questa è una domanda non facile, nel senso che io non l'ho capito, confesso. Nel senso che credo che si debba uscire, si possa uscire da un partito, se oggettivamente ci sono delle questioni politiche forti. Se questo partito avesse contribuito ad esempio a reintrodurre l'articolo 18, a abolire interamente il Jobs Act, quindi anche su ragioni economiche forti che hanno contraddistinto i governi precedenti, forse avrei anche più capito. Oggi trovo che non ci sono le condizioni politiche per farlo. Abbiamo appena detto che la sfida è contro la destra e che dobbiamo essere uniti e abbiamo fatto anche un governo. Renzi stesso è artefice, co-artefice. Protagonista, assolutamente protagonista, con la decisione non facile di fare un accordo politico con il Cinque Stelle. Quindi operazione di Palazzo, mossa tattica del Palazzo? Bisogna chiederlo a lui, oggi non l'ha spiegato in modo chiaro. Per quanto mi riguarda credo che ci siano sui territori soprattutto persone anche molto confuse, anche molto perplesse, anche molto arrabbiate e dovremo tutti dare una spiegazione. Ma che cambia per la politica economica? Cioè Renzi cercherà di condizionare il governo avendo adesso un golden share pure nel governo con i suoi deputati? Detto in parole povere, se decidessi di minacciare, di ritirare i suoi deputati potrebbe far crollare, cadere il governo, cosa che non credo che farà. No, non lo penso. Intanto perché le scissioni sono sempre molto pericolose, scaramanticamente mi verrebbe da dire che non portano bene, ma il punto non è scaramantico, il punto è politico. Questa non può essere una forza politica che fa cadere il governo che ha creato. Ma come potrebbe impattare? Che effetto sulla politica economica? Ma allora c'è un tema che abbiamo condiviso fin dalla campagna elettorale, che abbiamo portato avanti ed è uno dei punti fondamentali dell'accordo politico. Lo dico anche da componente della Commissione Lavoro alla Camera ed è il taglio del costo del lavoro. Su quello oggettivamente non ci saranno discussioni e non ci saranno condizioni. Tutti d'accordo? Assolutamente sì. Anche perché su un punto siamo d'accordo. Noi abbiamo fatto anche in passato, lei lo sa, un taglio del costo del lavoro ma soprattutto lato impresa. Necessario ma lato impresa. Oggi vogliamo un costo del lavoro tagliato che metta soldi nelle tasche di lavoro. Vuol dire IRPEF? Esatto. E significa però rimettere soldi, rendere più pesante la busta paga dei lavoratori italiani. Ma quanto dovrebbe, se si parli 4, 5, 6 miliardi, quello è l'ordine di grandezza? Ma in realtà si stanno realizzando delle cose utili. Lei sa che il calo dello spread sta aiutando le casse del nostro paese in modo anche importante, è un risparmio serio. Però è il grande sollievo che sta vivendo in generale ai mercati finanziari. Assolutamente, che ci aiuterà anche a sterilizzare l'aumento dell'IVA che sarebbe un colpo troppo forte per il mercato interno italiano. Ma le spese correnti sono briciole, 1 o 2 miliardi quest'anno. Questo è vero, però nella prospettiva di un triennale già il prossimo anno possiamo arrivare a 10 miliardi, che significa che la consistenza cede importante. Aggiungo poi altre due cose. Si stanno risparmiando soldi sul reddito di cittadinanza e su quota 100, in particolare su quota 100. Perché sono politiche falite e che non sono popolari? Ma semplicemente perché io credo, rispetto a quota 100, le domande sono di meno, perché chi fa la domanda si accorge che la sua pensione viene tagliata anche fino al 30%. Ci sono i medici che stanno andando via sfottando l'amministrazione pubblica anche in Friuli e anche in Veneto. Assolutamente, noi abbiamo calcolato che saranno migliaia quelli che mancheranno, quindi è chiaro che c'è un problema, non va bene. Non va bene anche perché, ahimè, e questo succede anche nella pubblica amministrazione, non verranno sostituiti immediatamente da giovani. E questo è il tema, perché non è vero che per uno che esce ne entrano tre. Per uno che esce al momento non entra nessuno, il che sarà un problema veramente molto serio. Ma quota 100 si lascia morire? Mi spiegano. Allora, noi abbiamo tre anni di fronte a noi di calcolo di quota 100. Viene lasciato. Esatto, io credo più che altro che verrà corretto, no? Perché quota 100 funziona per finestre. Se le finestre sono più, più, sono minori, l'impatto sarà diverso e anche le domande saranno di meno. Invece, Cuneo Fiscale, la domanda che non ho sentito la risposta ancora era, ordine di grandezza per un taglio a favore dei lavoratori? Allora, non può essere inferiore a 4-5 miliardi per avere un minimo di consistenza. E quello dà circa quanto a un lavoratore? Da 500-600 all'anno? Io posso intanto parlare della proposta del Partito Democratico. Noi avevamo parlato di 4 punti percentuali in un anno e poi a scalare. E per questa proposta servono circa dai 4 ai 6 miliardi e ovviamente significa però arrivare con una manovra di bilancio, questa, nella quale non si potrà far tutto, ma si può iniziare a ragionare su un taglio del Cuneo Fiscale. E il Cuneo Fiscale IVA costa 23 miliardi, altre cose inderogabili sono 2 o 3 miliardi, quindi siamo già a 26 più 30 miliardi. Investimenti pubblici? Ma in realtà nel nostro accordo politico ci sono e non mi riferisco solo… Ma scusami, vorrei ricordarci che nel governo giallo-verde è stato promesso un anno fa solo 3 miliardi di nuovi investimenti pubblici in termini di aumento, che era una cifra piccola, che non è stato neanche realizzato alla fine del governo. Voi in termini di un aumento degli investimenti pubblici, che lo strumento che lei mi ha detto più volte, Deborah Saracchiani, è molto efficace a creare posti di lavoro, quanto si può permettere di spendere? Economia verde, grandi opere, scuola e formazione. Questi sono i settori nei quali fare l'investimento. C'è un numero che ancora non conosciamo, è incerto nella forza, ma prevede una cosa che non le sfuggirà. Un dialogo aperto con l'Unione Europea. Altrimenti noi non riusciremo ad avere i numeri necessari per pensare anche agli investimenti. La questione di quanto riuscite a tenere flessibilità è il grande punto integrativo. Noi col governo Renzi ottenemmo circa 14 miliardi di flessibilità, che utilizziamo per la scuola e utilizziamo anche per il dissesto idrogeologico e per altre emergenze nel Paese, penso anche al terremoto. Oggi ci sono le condizioni per dire all'Europa che anche in virtù di un passaggio, che non so se è stato chiarito in tutta la sua forza. Oggi l'Europa per la prima volta parla di rivedere il patto di stabilità. Non è una banalità. Questo è vero, ma ricordiamo come ha ricordato anche Roberto Gualchieri l'altro giorno, sono due processi separati. Assolutamente. Uno immediato, che è la questione di IVA con EO fiscali, e l'altro un processo europeo che dura due o tre anni. Certo, però significa che c'è una maggior forza. Volontà. Esatto, perché se tu parli di flessibilità, ma non lo fai sporadicamente una volta e poi chi si è visto si è visto, ne riparleremo l'anno successivo. Se c'è un progetto serio, e il progetto serio c'è, anche visto le persone che siamo riusciti a nominare, è di queste ore la nomina di Irene Tinagli a Presidente della Commissione Europea Bilancio e Finanze in sostituzione di Gualtieri, mi pare che l'Italia si stia attrezzando in Europa per contare. In effetti la domanda volgare sarebbe tutto questo buonavolontà, Gentiloni, uomo di statura, commissario, Gualtieri, uomo di esperienze, Tignagli, tutti i figure, Davide Sassoli, Presidente dell'Europarlamento, tutti i figure assolutamente europeiste, che vuol dire che l'Europa abbraccia l'Italia, ma monetizzandolo vale 5 miliardi di flessibilità, 10 miliardi di flessibilità, un deficit che potrebbe andare come Matteo Renzi ha suggerito, non da poco, fino al 2,9%, cioè cosa vedi di concreto in tutto questo? Allora, io i numeri esatti oggi non sono in grado di dirlo, però una cosa mi sento di dirla, contrariamente al passato, noi non parleremo di flessibilità e anche di numeri che variano perché vogliamo spesa corrente, come fu in passato, per questo sarebbe incomprensibile, l'Europa non lo capirebbe e ci ha già detto di no più volte, come anche i mercati. Quello che vogliamo fare è che questa flessibilità, come dicevo prima, serva agli investimenti, allora sugli investimenti l'Europa non può dire di no, non può dire di no anche perché noi stiamo affrontando anche alcuni temi che sono delicatissimi, pensiamo ai flussi migratori, non possiamo mica pensare che l'Italia li affronti come ha fatto finora da soli o semplicemente staccando uno segno all'Italia. Però la questione vera sarà se l'Europa permetterebbe di staccare investimenti pubblici, toglierli dal bilancio, trattarli separatamente in termini contabili per non incidere sul deficit, su quello quest'anno davvero duro, davvero più probabile un stile Renzi Gentiloni di un stretto sentiero dove Padovan andava a negoziare 2 o 3 miliardi all'anno di flessibilità, perché quei 14 miliardi di flessibilità erano in tre anni. Sì, vero. Ma io credo che ci siano le condizioni per fare, oggi non sono in grado di dire i numeri e non compete a me, nel senso che insomma mi fido molto delle persone che in questo momento ci rappresentano. C'è da dire però che l'Europa credo sia consapevole di quello che sta accadendo. Noi abbiamo la Germania in recessione. Non sarà un tema che riguarda soltanto l'Italia. No, abbiamo Trump e Cina in guerra. Esatto. Abbiamo tutti gli effetti internazionali. Quindi abbiamo un mondo che è profondamente cambiato rispetto anche a quegli anni, pochissimi anni fa, nei quali noi parlavamo di flessibilità e combattevamo con un'Europa che guardava soltanto i conti. Quindi quell'Europa oggi è profondamente cambiata, non fosse altro perché è cambiata la Commissione. Io mi auguro che questo serva, insomma, anche perché mica serve solo a noi. C'è un tema generale che riguarda molti paesi europei, la Spagna, la Francia, la Germania, e per la prima volta direi che riguarda non soltanto l'Europa, perché il tema dei dazi doganali tra la Cina e gli Stati Uniti è un tema generale che investe tutti i paesi e investe un paese esportatore come l'Italia, forse più che altri. Per quanto riguarda gli investitori internazionali che non stanno venendo in Italia da un anno come prima, in parte perché il governo giallo-verdi non era user-friendly, non apriva le porte con un sorriso, ma minacciava di togliere gli investimenti e di togliere gli scravi. Ah, quello è Di Maio che rimane. Comunque, una parte del vostro governo faceva parte della vecchia politica, non friendly. Adesso siete con Ivan Scalforotto, che sarà commercio estero, quindi si fa un sforzo a rassicurare gli investitori internazionali e come? Con meno burocrazia, con qualche miglioramento sulla pubblica amministrazione, con qualche riforma della giustizia civile, o questi sono slogan che ogni governo promette ma nessuno fa? Ma intanto gli investitori stranieri credevo che abbiano assistito a sicuramente un cambiamento epocale direi del nostro paese, ma anche a un impegno molto serio. In precedenza il governo che c'era si basava su un contratto. I contratti possono essere risolti in ogni momento, l'abbiamo visto, e spesso sono la somma degli interessi e dei desideri degli uni e degli altri, ma quasi mai della comunità. Oggi c'è un accordo politico, in quell'accordo politico abbiamo messo nero su bianco quello che si può fare e abbiamo tenuto fuori i motivi per cui siamo divisi, sui quali oggettivamente sappiamo di spaventare, tra virgolette, ancora chi vuole investire in Italia. Quali sono gli impegni? La riforma della giustizia. Chi viene in Italia vuole delle regole certe, vuole capire fin dove arriva il sistema della magistratura nella chiarezza e nella trasparenza e vuole anche dei tempi certi. Io sono d'accordo, la mia domanda è, secondo lei, si fa? Certo, l'abbiamo messo d'accordo politico. Cioè si calendarise, si fa? Perché è da tanto tempo che i governi promettono. Assolutamente sì, anche perché c'è un tema generale. C'era una riforma in discussione già nel precedente governo. A noi non piaceva e devo dire che aveva trovato delle perplessità generali anche in una parte del Movimento 5 Stelle. Sarà l'occasione per discuterne di nuovo, sarà l'occasione per mettere mano alla giustizia civile, alla giustizia penale. Lei parlava della burocrazia ed è il grande tema italiano. Lei lo troverà sempre in ogni campagna elettorale, ai primi posti, in ogni campagna elettorale. Purtroppo siamo ancora lontani da essere riusciti a dare delle risposte. Io ho scritto nel passato che le riforme tentate da Renzi e Madia non erano malvagie, erano le direzioni giuste, ma si finiva per fare la metà della metà. Allora, il problema è che intanto sono rimaste a metà e quindi una parte di quelle riforme non solo non vanno abbiurate, messe da parte, ma vanno completate e riguardano in particolare la pubblica amministrazione e anche gli investimenti in generale. Nell'accordo politico noi abbiamo messo con chiarezza che c'è un tema di pubblica amministrazione sulla quale bisogna prendere delle posizioni molto chiare, che riguarda i concorsi, che riguarda lo snellimento delle procedure amministrative. E' la notizia di queste ore che per la prima volta il peso della tassazione per le piccole imprese scende sotto il 60%, e quando si dice il 60% c'è anche quella tassazione indiretta che è la burocrazia, quindi vuol dire che qualcosa abbiamo fatto e che va completato. E poi c'è un altro tema, Industria 4.0, di cui so che si è occupato... Che era morto e poi quasi risuscitato nel decreto crescita. Esatto, che il Presidente del Governo all'inizio ha voluto in qualche modo mettere in un cassetto, ha capito che viceversa era uno strumento utile e devo dire che già nel precedente corso anche il Movimento 5 Stelle aveva messo finanziamenti laddove li aveva tolti, quindi proseguiremo su questo completando ovviamente la parte mancante e che dovrà riguardare, e questo diciamo è un tema anche per il Partito Democratico, anche le piccole imprese e non soltanto le grandi imprese. Ultima domanda, non voglio chiudere in modo pessimista, ma siccome siamo in un periodo prolungato di crescita zero, di cui a mio avviso la metà dei problemi vengono dall'estero, Germania, Cina, Trump, e la metà sono ancora i danni alla politica economica compiuta dal Governo precedente, parere mio. Immagino che lei potrebbe essere d'accordo con questo parere, anche se un partito fa parte della vostra nuova coalizione. quando pensa che si può tornare sopra 0,3%, 0,4%? Io la vedo duro almeno per un anno. La vedo dura anch'io, ma nel senso che non risponde il mercato anche fuori dai confini italiani, quindi il problema, come diceva lei, è generale. Posso però prendere un impegno, diciamo, che è l'impegno che abbiamo preso con l'accordo politico. Noi possiamo lavorare nella quota parte che dipende da noi, cioè nella quota parte che dipende dalle scelte del Governo italiano e su quelle siamo sicuri di invertire la marcia. Ultimissima domanda, perché non voglio trascurarlo. Nella Commissione europea ci sono tante donne, quasi la metà dei commissari. Nel Governo Conte 2, non è così, 7 su un terzo, credo. Si può migliorare qui. Altro che se si può migliorare. Io avrei preferito un Governo e un sottogoverno molto più rosa di quello che ho visto, mi dispiace perché credo che abbiamo perso un'occasione. e non ne faccio solo una questione di genere, è una questione di competenze e capacità. Le donne che sanno e che fanno bene sono tante. Credo che il Partito Democratico, il centro-sinistra, questo Governo debbano, come dire, togliersi di dosso quella patina troppo azzurra, diciamo così, che impedisce alle donne di avere posizioni importanti. Grazie per il suo tempo. Grazie a voi, grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti.